Politica. Infatti lì Virgilio spiega che nel VIII cerchio, quello di Malebolge, sono puniti coloro che tradiscono, che usano la frode nei confronti di chi non si fida, mentre invece nel IX, che è quello che ci interessa, sono puniti coloro che tradiscono la fiducia di chi si fida, per altro modo quell'amor soblia che fa natura, quindi che in qualche modo tradiscono cosa? Non il legame naturale che accomuna tutti gli uomini, la fiducia che abbiamo tutti l'uno nell'altro di base, ma quel che poi è aggiunto, di che la fede speciale si cria. E questa diciamo speciale fede che si aggiunge a quella normale, standard, naturale, può essere, come dire, tradita, può essere oggetto di tradimento, a seconda di quanto più libera e disinteressata è. Abbiamo dunque una prima zona di questo lago ghiacciato che ospita i traditori, che è la Caina, dove vengono uniti sostanzialmente i traditori, coloro che hanno tradito i parenti, cioè quelli che si fidavano, perché oltre al vincolo che unisce tutti gli uomini tra loro c'era anche il vincolo della parentela. Poi la zona dell'antenora, dove i commentatori esitano se parlare di tradimento della città, della parte, io direi che potremmo parlare di un tradimento di una sorta di esperienza fondamentale di partecipazione e di legame che era propria del tempo di Dante, ovvero sia l'esperienza della militanza, del combattere, come dire, insieme e che quindi tiene insieme ad un tempo la città e dalla parte. Poi nella zona ulteriore il legame si fa ancora più forte e disinteressato perché è un legame di amicizia o di fare del bene, in qualche modo nella Tolomea sono puniti coloro che tradiscono, coloro che si fidano di loro perché li hanno beneficiati, sono amici, quindi vedete passiamo da una zona di, come dire, sempre più disinteressata, finalmente nella Giudecca coloro che sono dei benefattori a un livello ancora più alto e che non si limitano a fare del bene a qualcuno indirettamente ma all'intera umanità, soprattutto nei suoi campioni che sono appunto quelli della Giudecca. Il fatto che qualche volta i commentatori abbiano, come dire, esitato se mettere un peccatore o l'altro in una o l'altra delle zone non è casuale perché effettivamente non esistono confini tra queste zone, semmai una differenza è data dal modo in cui i peccatori sono puniti. Ma per questo, come anche ha fatto Giuseppe Lè da oggi, rimanderei ai commenti. Quello che invece è interessante è che questa sorta di ordinamento morale che va verso gradi successivi di disinteresse della fiducia che viene tradita in realtà, come dire, sin dall'inizio, sin dai primi commentatori viene esaltato al danno di qualcosa che forse i primissimi lettori invece avevano più presente. Come ha scritto di recente Luca Fiorentini, in un contributo in corso di stampa proprio sulla Caina, cito, si coglie presso i primi commentatori danteschi una qualche profensione, sta parlando della Caina, isolare i delitti familiari dalle loro potenziali ricadute pubbliche, quasi a distinguere decisamente i due ambiti. E si tratta quello che appunto Fiorentini chiama della casa e quello della città, o che usando le altre definizioni forse più comprensive che ho proposte potrebbe essere quello della parentela e della militanza. Una cosinetta distinzione, prosegue Fiorentini, merita di essere sottolineata perché con ogni probabilità essa non appartiene a Dante, né al pensiero politico dantesco, né alla razio che sembra motivare la selezione delle anime qui raccolte. Ecco, uno sguardo alla narrazione di Dante e ai profili biografici dei traditori penso possa permettere di capire meglio questa razio e le ragioni di questa scelta. Allora, andiamo veloce. Deposti dal gigante Anteo sul lago ghiacciato, sul pondo del pozzo, Dante e Virgilio cominciano a guardarsi intorno. Vedono che stanno appunto in un lago ghiacciato e che sotto di loro si trovano due peccatori affondati vicinissimi, l'uno di fronte all'altro, le cui teste, chine, che emergono dal ghiaccio, sono saldate nei capelli. Dante prova a rivolgere loro la parola per capire chi sono e quelli alzano il volto verso di lui piegando il collo. Le lacrime che prima scorrevano verso il basso alimentando il lago finiscono per scorrere verso le labbra, ma la vicinanza di queste due facce fa sì che le loro bocche si vengano a saldare strettamente per effetto del gelo e questo nuovo contatto che genera un nuovo legame non più delle fronti ma delle labbra muove all'ira i due che rivolgendo in modo simmetrico e rapidissimo le loro facce verso il basso si colpiscono la testa come due caproni, riassumendo infine la posizione in cui Dante li aveva trovati. Una terza anima che a questo punto forse è la stessa che lo aveva apostrofato in un primo momento che poi scopriremo essere quella di Camicione dei Pazzi, che il freddo ha privato delle orecchie, chiede a Dante perché cotanto in noi ti specchi e senza aspettare la risposta gli spiega che quelli che ha appena visto sono appunto i due conti Alberti. Dice che questi due conti Alberti, Napoleone e Alessandro, ovviamente usano per le frasi che non vi sto raccontando, la Val del Bisenzi eccetera, sono più degni di tutte le altre ombre di essere lì nella Caina e per spiegare chi sono le ombre meno degne di essere lì comincia a elencarne altre tre. Mordret, il peccatore della ciclo arturiano, poi Sassuol Mascheroni, Focaccia Cancellieri e lui stesso che però cita anche un suo parente che lo seguirà in questo stesso luogo. Il fatto che Camicione dei Pazzi dica che i due Alberti sono più degni delle altre di essere lì è un'espressione che a mio modo di vedere va presa sul serio perché effettivamente riassumono questi due peccatori delle caratteristiche che hanno tutti gli altri. Dal punto di vista biografico infatti Mordret aveva ucciso un suo parente, Focaccia Cancellieri aveva concorso a uccidere un suo familiare nel corso delle lotte pistoiesi degli anni 90. il Sassuol Mascheroni aveva anche lui ucciso per ragioni di eredità un suo parente, Camicione dei Pazzi aveva ceduto un castello. Ebbene tutte queste cose si trovano come dire raccolte insieme nel caso degli Alberti che avevano fatto tutte queste cose insieme nel corso di una lunghissima faida in cui si erano minacciati e sottratti i castelli reciprocamente, una faida che era iniziata per ragioni di eredità che aveva visto delitti gravi e che costituiscono altrettanti variazioni sul peccato di tradimento della parentela. Da una lite ereditaria infatti era sorto il loro conflitto, a nulla erano valse le pacificazioni speciali che aveva promosso tra l'altro il cardinale latino nei miei 280 facendogli giurare di non nuocesi e facendogli scambiare un bacio della pace ritualmente che probabilmente è ricordato in quella specie di bacio dell'orrore ghiacciato che Dante gli fa dare reciprocamente e loro continuano a litigarsi dopo il 1280 in una serie di vendette e trovano entrambi la morte così come la trova il figlio di Napoleone Orso che Dante incontrerà un po' più al calduccio in Purgatorio 8. Ecco, tra le altre anime presenti, oltre ai fratelli Alberti, Camicione dei Pazzi, qui in questa caina, è l'unico che parla e parlando profetizza, così come aveva fatto per esempio sotto la pioggia di fuoco Reginaldo Scrovegni, profetizza l'arrivo di un nuovo dannato che è il suo parente Carlino, che farà ben peggio di lui tradendo il castello di Piantravigne, base dei bianchi fiorentini, tra cui Dante, in favore dei guelfi neri. La storia che anticipa è in qualche modo l'unica che regge il confronto con quella degli Alberti, le altre per un lettore erano semplici, come dire, indicazioni ed è molto probabile che Carlino appunto non sarà qui punito nel senso della caina, cioè del luogo dove si puniscono i traditori dei parenti, ma in quello dell'antenora, cioè dove si tradiscono i traditori dei commilitoni, per così dire. Avendo tradito la parte con cui stava combattendo, ne avrebbe tutte le ragioni. D'altronde anche gli Alberti, pur essendo puniti per una lite ereditaria, erano ben implicati delle parti politiche. Ci ritorneremo, ma Napoleone era stato uno dei primi podestà della Firenze di Bellina, Alessandro, per reazione, si era schierato con i guelfi. Ecco, questo basso continuo politico che comincia a essere proposto già nella caina, nel luogo dei traditori dei parenti, si fa esplicito col passaggio nell'antenora. Quando Dante arriva nell'antenora, finalmente incontra il nostro amico che sa al Collège de France, Bocca degli Abbati, e lo colpisce inavvertitamente col piede, e lui, il traditore proprietario della testa che è stato colpito, al centro dell'episodio più lungo animato di questo canto, si lamenta tradendosi, cioè facendo riferimento alla battaglia di Montaperti, momento della sconfitta dei guelfi e dell'inizio del regime di Bellino del 1260. A questo punto Dante chiede a Virgilio di aspettarlo un momento, perché dice che deve togliersi un dubbio, e mentre Bocca continua a bestemmiare per il dolore del calcio in faccia che Dante gli ha dato, il poeta comincia a chiedergli il suo nome. Questo non risponde, chiede a sua volta dell'identità di colui che dice che se lui dannato fosse vivo non la passerebbe liscia, Dante gli risponde per le rime con quasi una tensone, sfugge la domanda, insiste nella sua richiesta, quello rifiuta, e allora Dante, con un atteggiamento che è stato anche notato da Justin Steinbeck recentemente, più che un pellegrino ricorda un torturatore, comincia a strappargli i capelli e va avanti per un po', finché un'altra voce gli spiega che si tratta di Bocca degli Abbati. Ecco, un altro caso di un'anima che, come dire, non si pone tanto il problema di interagire con un corpo. Lele mi insegna ogni giorno a notare e apprezzare le contraddizioni in cui Dante cade, e gliene sono molto grato, e ecco, diciamo, se Dante ha qualche dubbio sulle possibilità che un'anima, un corpo finto, un corpo vero si possano abbracciare, non sembra aver dubbi sul fatto che si possano picchiare selvaggiamente e strappare i capelli dalla cuticagna. E' qua che Dante fa una cosa importante per questo aspetto, cioè, chiamandolo malvagio traditore, promette di riportare notizie veridiche al suo ritorno in terra. Questa insistenza sulla necessità di stabilire la vera identità del traditore di Montaperti è un dato importante, che ha fatto pensare, e io condivido questa idea, che al tempo di Dante, il fatto che Bocca degli Abbati avesse tradito a Montaperti non era una notizia acclarata, ma al massimo una voce contraddetta da altre voci. E questa ipotesi, che ha formulato Giorgio Inglese, che ha ripreso Elisa Brilla, è proprio suffragata dal confronto dei documenti che indicano come tra i Ghibellini condannati nel 1268, cioè dopo la fine del regime di Ghibellino, Bocca degli Abbati in realtà abbia una punizione piuttosto lieve e che addirittura poi se la sia cavata, rinserendosi nel regime Guelco. E questo ci fa capire che c'è un valore molto più forte nella rivelazione del tradimento di Bocca, perché di fatto non si tratta di qualcuno che tutti sapevano essere un traditore, ma di qualcuno che qualcuno pensava lo fosse e qualcuno pensava non lo fosse. E questa stessa logica sembra condivisa da tanti altri personaggi che sono in questo lago nero, da Buoso di Dovara, che anche lui in certe cronache appare come colui che ha tradito verso Carlo D'Angiò, la parte a cui apparteneva in quel momento, ovvero quella Ghibellina di Cremona, ma che in altri invece non appare affatto così. Per esempio, se leggete il suo profilo in dizionario del biografio degli italiani, non ce n'è traccia di questo, per dirvi quanto è importante. Si potrebbe dire la stessa cosa su altri dannati, Tesauro Beccaria, che a Firenze tutti pensavano avesse tradito il popolo in favore dei Ghibellini, ma che il Papa e i Vallombrosani difendevano da questa accusa, e anche di Gianni Soldanieri, che anche lui, accusato semmai di aver fatto il contrario, cioè di aver tradito la parte Ghibellina in favore di questo regime popolare che poi diede adito al regime Guelfo, in realtà poi venne condannato come Ghibellino. Insomma, i documenti ci fanno capire che queste persone avevano continuato, per così dire, dopo il loro tradimento, a fare delle vite normali, e che quindi le rivelazioni dantesche hanno un valore molto maggiore per il pubblico, che in qualche misura va a minare le certezze del pubblico che lo legge e a suggerirne altre. Tutti questi... casi sono anche replicabili con il caso di Ruggeri, Ubaldini e Ugolino della Gerardesca. Anche se qui forse la rivelazione, sarebbe lungo parlarne perché è uno degli episodi più importanti della commedia, e io ne parlerò soltanto sotto questa piccola specie, riguardano semmai le modalità del loro tradimento. Fatto sta che tra i vari abitanti dell'antenora, soprattutto, non parliamo della Tolomea, a cui arriveremo tra poco, soltanto sul tradimento di un cattivo dei romanzi medievali francesi, Ganellone e Mordrette, il pubblico non poteva avere alcun dubbio. La fama degli altri, tutti strettissimi contemporanei di Dante, nel senso di morti dopo la sua nascita, era come minimo discutibile, forse molto discutibile, ed era per superare questi dubbi e queste discussioni che Dante edifica, per così dire, e qua riprendo una metafora che a questo punto dovrebbe essere chiara, la sua cittadella di traditori, la sua cittadella tebana di traditori del Coscito, perché se l'inferno è una città, il pozzo di Coscito ne è la cittadella centrale, cercando al tempo stesso di imitare e superare i tribunali del suo tempo. E qua arriviamo all'altro tema che mi sembra importante, ovvero sia il rapporto tra le punizioni umane e le punizioni divini. Dante non era l'unico che pensava che i traditori fossero, come dice lui nel 32esimo, la sovrattutte malcreata plebe. Nelle città del tempo in cui Dante visse, il crimine di tradimento espresso nella parola latina prodizio, era considerato il più grave e politico di tutti i crimini, quello che bisognava punire con le pene più dure, la pena di morte o nell'impossibilità di quello con il bando perpetuo non revocabile o la scomunica più radicale di tutte. Ci tornerò sulla scomunica. E questo non solo a causa di una mentalità feudale, come quella testimoniata dai romanzi francesi da cui Dante trae le figure di Mordrette e Ganellone, per cui il legame di fedeltà tra signore e vassallo era importante e quindi la sua rottura era deprecabile. No, non solo a causa di questo, anche e soprattutto a causa del fatto che il mondo in cui Dante si muoveva era un mondo altamente giuridicizzato, governato dal diritto comune in cui si univano l'interpretazione del diritto romano che era iniziata nel XII secolo e il diritto canonico, quel diritto che si insegnava nelle aule di giustizia e nelle università. In questo diritto rinnovato la Prodizio era il crimine pubblico per eccellenza, era una lesione della maestà dell'imperatore, autorità da cui secondo i giuristi emanava tutto il potere, dei suoi rappresentanti veri o presunti, e cioè re, comuni, vicari, eccetera, ma anche della maestà di Dio, come dall'inizio del 200 aveva teorizzato Innocenzo III in una famosa bolla che si chiama Vergentis Insenium, equiparando proprio alla lesa maestà quel tradimento della fedeltà alla Chiesa che cominciava a essere perseguito in modo sempre più sistematico sotto il nome di Eresia, e dunque dal papato che stabiliva cosa Eresia fosse e non fosse. Nel destinare all'inferno più profondo i traditori e nel mettere, e qua arrivo a quel po' di XXXIV, che ho messo nel titolo, tra i peggiori traditori proprio i prototipi della lesa maestà dell'impero e di Dio, Giuda e Bruto e Cassio, Dante quindi aderisce profondamente al contesto giuridico ideologico che gli ha contemporaneo. Ma opera anche uno scarto profondo, non mettendo l'accento sulla persona o l'istituzione tradita. E qua chiedo l'aiuto ai dantisti, ma sul traditore, sul suo approfittare di una situazione favorevole, la particolare fiducia che gli altri gli sprestano, perché parenti, perché alleati ne ha stessa battaglia, perché amici, perché benefattori, per ottenere un vantaggio che distrugge l'altro e che attraverso l'altro distrugge il traditore stesso, rivelando in ultima analisi la vanità del tradimento. Ecco, questa universalizzazione dell'idea di tradimento, mediante la scoperta del suo carattere individuale e svantaggioso, in qualche modo il tradimento è sempre un pessimo affare, ci dice Dante, credo che era suggerita anche questa da un dato di contesto, cioè dalla riflessione medievale su Giuda, così come è stata chiarita di recente tra gli altri da Giacomo Todeschini. Nel diritto canonico, e qua arriva un altro punto di rapporto tra giustizia umana e giustizia divina, il caso di Giuda era citato molto spesso in formule giuridiche importanti che erano le scomuniche. nelle scomuniche infatti Giuda veniva usato come termine di arrivo, ci si augurava che se qualcuno rompeva un patto, rompeva un contratto, oppure non obbediva a un certo ordine, potesse raggiungere Giuda e gli altri. Il nome di Giuda non era casuale perché si trattava di uno dei pochi che certamente erano nell'inferno. Noi diamo per scontato che nell'inferno ci sono un sacco di persone, ne conosciamo gli abitanti, c'è Bocca degli Abbati, eccetera. All'epoca di Dante non si sapeva chi c'era e si temeva molto di dire chi ci fosse. Erano pochissimi i personaggi che autorizzavano con certezza. Uno di quelli sicuri era Giuda. E per questo nelle scomuniche si diceva che ci si augurava che se qualcuno fosse stato scomunicato avrebbe dovuto raggiungere Giuda. Ecco, Giuda è stato invocato dai critici anche per spiegare una cosa piuttosto misteriosa che c'è in questi canti, non tanto nel 32 ma nel 33, ovvero sia nel canto del Tolomea, dove Dante scopre una cosa che viene considerata quasi assurda, lo dico per gli studenti, ovvero sia che certe persone, certi dannati lì in realtà sono ancora vivi e abitano e vivono, mangiano, dormono e vestono panni. Si tratta di Brancadoria e di Frate Alberigo dei Manfredi e Dante dice ma com'è possibile che queste persone sono ancora vive e sono anche all'inferno e hanno fatto un peccato talmente terribile, quello per cui sono il tradimento dei benefattori, che in qualche misura sono stati direttamente mandati nell'inferno e un diavolo li abita come degli zombie sulla terra. Zombie, eccitazione da Barolini. E ecco, molti hanno eccepito sulla assurdità di questa cosa, sul fatto che Dante qui veramente si spinge molto oltre nella fantasia, diciamo che alcuni hanno cercato le fonti e tra le fonti che sono state trovate per questa strana idea è stata trovata una fonte che è il Vageo di Giovanni quando parla del fatto che dopo aver tradito Giuda, dopo aver preso questa, questo, diciamo, dopo aver fatto il tradimento famoso, vede entrare in lui Satana e quindi in qualche misura è stata evocata questa cosa. In realtà Maurizio Fiorilla ha valorizzato un'altra testimonianza che è un salmo che dice e descendant in infernum viventes cioè e che peraltro è citato dai primi commentatori in particolare da Pietro Alighieri Pietro Alighieri era un grande commentatore ma era anche un giurista e sapeva molto bene che questa espressione e qua aggiungo un piccolo tassello a questa ricostruzione era usata nelle formule della cosiddetta scomunica late sentenzie cioè di una scomunica che in pratica non aveva bisogno della dichiarazione per essere operativa ma che partiva direttamente secondo il diritto canonico dal peccato certi peccati secondo il diritto canonico attirano la scomunica soltanto per il fatto di essere compiuti non c'è bisogno che un ecclesiastico un giudice lo dichiare è qualcosa che è ancora presente in diritto canonico oggi per alcuni peccati e che a me pare concettualmente piuttosto vicino all'idea che qualcuno vada direttamente all'inferno si potrebbe obiettare e forse una sottigliezza ma magari ne parleremo nella discussione c'è una grande differenza tra una scomunica e un invio all'inferno ma è vero anche che Dante questa differenza non la sente molto e che per esempio non usa mai il termine scomunica nemmeno quando parla di Manfredi ma usa il termine maledizione che in qualche misura aggrava questo elemento se le cose fossero così si arriverebbe ed è la prima volta che ci ho pensato perché di fatto è qualcosa che prima proprio mi ha fatto pensare questa unione di canti infernali e purgatoriali che costituisce il tema del nostro convegno se le cose sessero così ci sarebbe una sorta di avvio della riflessione sulla le istituzioni che decidono la sorte eterna delle persone che non parte appunto dall'antipurgatorio e da Manfredi ma che in qualche minuto parte da prima provocando un chiasmo tra queste persone che per il loro peccato in qualche misura e non per il peccato che ha deciso la chiesa ma per il peccato che ha deciso Dante si trovano come dire scomunicati l'asse sentenze anzi dannati l'ate sentenze come se la sentenza fosse già stata evocata da una parte e specularmente coloro che scomunicati invece per un pentimento che riguarda solo loro hanno la possibilità poi di accedere al mondo ultimo punto se ho ancora io avevo segnato 31 minuti ma sono a 2 minuti ultimo punto per dimostrare la perversa futilità del tradimento Dante insiste molto nel coscito sul fatto che ci sono tradimenti reciproci e qui mi connetto a qualcosa che a questo punto mi piacerebbe forse sviluppare nella discussione credo che in altre parti dell'inferno Dante avesse già utilizzato la tecnica di mettere insieme persone che si erano trovate su fronti opposti per mostrare l'inutilità del loro combattimento del loro schierarsi sulla terra dimostrata dal fatto che si trovavano puniti insieme il caso più noto è quello di Farinata e Cavalcante che potrebbe essere seguito da quello di Federico e Ottaviano degli Ubaldini che si hanno combattuti tra loro dal fatto che tra gli usurai o altre categorie come gli indovini ci sono spesso persone che hanno militato su fronti opposti ma non voglio sviluppare questa cosa il fatto è che questa logica di coppie di nemici punite insieme nell'inferno trova il suo apoggeo esattamente nel Coscito dove in qualche misura il peccato e la punizione non solo coesistono ma coincidono perché questi traditori continuano per così dire a tradirsi reciprocamente colpendosi l'uno con l'altro ed è quello che caratterizza le coppie che aveva già identificato la Chiavacci Leonardi gli Alberti che appunto continuano a cozzare e a ridicolmente far pace l'uno dopo l'altro Ruggeri Ubaldini e Ugolino della Gerardesca il cui caso è un pochino più complicato ma appena che si erano in qualche modo traditi reciprocamente dopo aver tradito una terza persona che è la vera ragione per cui entrambi sono lì all'inferno tra i traditori ovvero Nino Visconti e da un punto di vista letterario anche Bocca degli Abbati che in quel canto viene tradito da Buoso da Dovara che ne rivela il nome e che in qualche misura dunque sposta su questo piano letterario uno degli elementi del tradimento che è la rivelazione di ciò che c'è stato chiudendo il cerchio di questa giustizia da questo schema che ho dietro che si vede male peraltro dietro le mie spalle capite che un altro esercizio a cui mi sono dedicato è stato quello di identificare quelle che il lettore poteva pensare erano le parti a cui erano appartenuti questi grandi traditori è un compito che ho fatto con passione e diciamo diligenza e che mi ha portato alla fine a scoprire che di tutti questi personaggi in realtà ed è il punto su cui concludo che sono tanti sono 21 tolte le persone che non sono attribuibili a quelle parti che si combattevano in Italia al tempo di Dante ovvero sia gli eroi dei romanzi francesi Mordrette Gano Giuda Bruto e Cassio le altre sono ben distribuite quasi perfettamente tra le parti che si erano combattute dagli anni di Federico II agli anni di Dante attraverso questa rassegna di nomi che sulle prime sembra un elenco improvvisato Dante ripercorre quindi in modo sistematico la storia delle parti politiche del suo tempo le parti per cui si tradiva a partire dall'epoca della morte di Federico II fino a quando scrive il progressivo inesorabile procedere di un conflitto che le aveva opposte da loro riaccendersi a Firenze in Toscana al momento della lotta tra Manfredi e Carlo a metà degli anni miei 260 e poi le altre città che di decennio in decennio quelle parti avevano generato nuovi tradimenti replicandosi e trasformandosi nella sua visione i conflitti di parte in qualche modo senza distinguersi facilmente dalle faide familiari e dalle ritorsioni politiche si riducono così a occasioni per impiegare il proprio ingegno e l'altrui fiducia per ottenere guadagni che solo la tenacia degna di Giuda di persone ridotte a pietre dall'assenza di carità può far sembrare appetibile e mi fermo qua per ottenere guadagni vi lascio con Botticelli che aveva un'altra idea un po' più chiara di Cocito di l'anthropologia italiana a l'Università di Barcellone e membro della società catalana della società dantesca catalana che ha consacrato ses ricerche che è specialista dell'antica della letteratura medievale ma anche ai problemi di letteratura del primo e la psicanalisi oggi di un'antica di un'antica di un'antica di un'antica di un'antica con una comunicazione parliamo Antitulé, la plasticità dell'idea imperiale da Bruto e Cassio, Inferno 34, a Catone, Purgatorio 1. Molte grazie a Raffaella e a Emanuele e Filippo per questa iniziativa che ci obbliga a, sto cercando una parola nuova, un neologismo a risintagmaticizzare la commedia, perché noi siamo abituati a dei sintagmi come c'era un inizio e una fine e loro invece ci obbligano a studiare questi passaggi tra un sintagma e l'altro. Quindi molte grazie per questo stimolo così suggestivo che nel mio caso, dovendo pensare ad un passaggio fra l'inferno e il Purgatorio, mi è subito venuta in mente la figura di Giulio Cesare, di Giulio Cesare che, innominato però chiaramente all'uso, alla fine dell'inferno e all'inizio del Purgatorio, lo è però in un modo contraddittorio, perché Giulio Cesare appare come la vittima di due traditori uguali a Giulio, come sono Bruto e Cassio e però poi all'inizio del Purgatorio appare poi come l'antagonista di Catone. Ecco, quindi diciamo, se noi ci chiediamo, ma Giulio Cesare che significa per Dante? Se noi ci mettiamo su questa linea, diciamo, di sintagmaticità alternativa, ci troviamo di fronte ad una contraddizione. Per quanto riguarda Bruto e Cassio non ci sono grandi problemi, nel senso che il mio intervento ora entra fatalmente in risonanza con gli interventi precedenti, non vi cito, però chiaramente sto pensando anche alle cose che ho ascoltato qui, fra ieri ed oggi. Ecco, allora, Bruto e Cassio è normale che siano lì, perché? Perché l'idea dell'impero è centrale in Dante. Come sappiamo lo è in un modo molto specifico nell'inferno, perché Lucifero è l'imperador del doloroso regno, Lucifero, però Dio era nel primo dell'inferno quello imperador che l'assurregna. Quindi, ecco, diciamo, abbiamo Dio e Lucifero sono due immagini speculari, situate al principio e alla fine dell'inferno, tutti e due sono imperatori, ciascuno impera sul suo regno, però ovviamente, per cui abbiamo due regni, abbiamo il regno del bene di cui è l'imperatore Dio e il regno del male di cui è l'imperatore Lucifero. E poi, diciamo, questi due imperatori hanno dalla loro degli aiutanti e degli avversari, perché l'imperatore del bene, cioè Dio, ha dalla sua Enea e San Paolo, mentre invece l'imperatore del male, che è Lucifero, i suoi aiutanti sono giù da una parte, brutto e casso dall'altra. Tenete presente poi che questi due imperi sono, diciamo, si distinguono dei due imperi, una parte spirituale, l'impero celeste, una parte materiale, l'impero terreno, così come esiste un impero del male sottoterra e un impero materiale, diciamo così, che poi Firenze, diciamo, come la politica, così come la vede Dante e come ci ha illustrato adesso così bene, in modo così suggestivo, Milani. Ecco, allora, tenendo conto di questa precisione concettuale, questo rigore concettuale di Dante, fa un po' impressione, diciamo, il fatto che poi al principio del purgatorio ci vengano cambiate le carte in tavola. e noi improvvisamente scopriamo che invece Cesare non è, diciamo, quell'eroe così importante che era cento versi prima, perché fra questi due brani, cioè quello di Bruto e Casso e quello di Catone, ci sono cento versi, se noi contiamo i versi finali dell'inferno e i versi iniziali del purgatorio. E qui direi che probabilmente questa prossimità sintagmatica di Bruto e Catone è stata forse suggerita a Dante da due versi della Farsaglia in cui si dice che l'anima di Pompeo, Pompeo è stato appena assassinato, l'anima di Pompeo però si incarna nel santo petto di Bruto, in santo pectore bruti, interessante, in Lucano il santo petto, non è di Lucano ma di Bruto, e poi nella mente di Catone, che stanno, diciamo, in Lucano stanno dalla stessa parte, ovviamente, no? Bruto e Catone, e Dante che invece li separa e utilizza anzi, diciamo, parassita da Lucano, un'immagine così bella con il santo petto, però invece di attribuirla a Bruto l'attribuisce a Lucano. Ecco, quindi voglio dire, qualche problema c'è, qualche problema di coerenza. Qui abbiamo visto soprattutto nell'intervento di Lele che Dante non sempre è coerente fino in fondo. Però fin dove ci riusciamo proviamo a capire che cosa significa questa contraddizione. E allora bisogna, io cerco adesso un po' di illustrare molto brevemente, molto brevemente, l'idea dell'impero in Dante. Lo farò molto brevemente, non vi dirò più bene. Ecco, quindi partirò da questo dato importante, cioè che c'è solo molto tardi in Dante appare positivamente l'idea dell'impero. Nel Dante Fiorentino, cioè in tutto quello che è scritto a Firenze, c'è una sola allusione all'impero, all'imperatore, cioè a Federico II, che è nella canzone che è nella canzone Le dolci rime d'amor chiosolea, nella quale la canzone comincia dicendo c'è un tal imperatore, cioè c'è un imperatore il quale ha detto che la nobiltà consiste nell'antichità delle ricchezze. E si sbaglia, è un errore, dice Dante, la nobiltà è tutt'altro. Ora, Federico II non ha mai detto che la nobiltà dipenda dall'antichità delle ricchezze. E infatti poi Dante si corregge nella monarchia e spiega bene che questa è un'idea che viene da Aristotele, non c'entra niente con Federico II. Però perché? E Dante sicuramente conosceva la politica di Aristotele quando scrive la canzone, quindi mente. Perché mente? Perché Dante mente? Perché traduce a Federico II un'idea che lui sa bene che viene da Aristotele. Perché Dante in questi anni è un fiorentino guelfo perfettamente inserito nelle strutture pubbliche della città, si rivolge ad un pubblico guelfo e gli deve spiegare che i loro valori più importanti, il suo valore più importante, la borghesia fiorentina, che è il danaro, è un errore. E che fa? Attribuisce, simula che quest'idea venga dall'imperatore. Se l'ha detto l'imperatore è sicuramente sbagliato, che il danaro dia la nobilità. Avete capito che voglio dire? Lui sta parlando ai guelfi e quindi ai guelfi c'è bisogno di desautorare un concetto e che in che modo lo si può desautorare questo concetto? Attribuendolo all'imperatore. E quindi mente, mente, ma a fin di bene deve dimostrare ai borghesi guelfi che il danaro non è la cosa più importante di questo mondo. Se poi noi andiamo un po' più avanti e vediamo che anche nei primi anni dell'esilio il giudizio che Dante dà sull'impero non è così, non è tanto positivo. Mi soffermo su due testi molto interessanti. Il primo è la canzone Tre donne intorno al cor mi sono venute, la canzone della giustizia. Ce l'avete presente? Le tre donne che vanno a trovare l'altro, questo e quell'altro. E allora la canzone della giustizia che poi fra l'altro quest'idea della giustizia probabilmente gli è venuta proprio da Lucano perché in Lucano Stazio è giustizie cultor giustizie cultore della giustizia. Però diciamo Lucano non è ancora apparso, Lucano non è ancora apparso nella canzone della giustizia e lui descrive come sapete la giustizia allora il problema qual è? Che non si accenna minimamente all'imperatore non c'è nessuna nessun accenno nella canzone della giustizia non c'è nessun accenno all'imperatore. Ora se noi teniamo presente che nel paradiso nel cielo di Giove le anime le anime del cielo di Giove prima di disegnare la figura dell'aquila scrivono diciamo disegnano nel cielo sullo sfondo del cielo la frase diligite giustiziam qui di Gatis terra cioè amate la giustizia voi che governate la terra siamo nel paradiso e non parliamo poi della monarchia il mondo è disposto nella maniera migliore quando la giustizia gli si trova al massimo grado ma la giustizia al massimo grado esiste solo sotto un monarca quindi per la migliore disposizione del mondo si richiede che esista la monarchia o l'impero ecco a partir da un certo momento per Dante è chiaro quello che voglio dire cioè bisogna spiegarla questa assenza di riferimenti all'impero nella canzone della giustizia se poi a un certo punto la giustizia diventa un tema così la connessione tra l'impero e la giustizia diventa un tema così importante per Dante e come si spiega è facile nel 1302 quando io credo che sia ai primi del 1302 quando io credo che la canzone sia stata scritta Dante è appena stato cacciato è stato appena obbligato a lasciare Firenze ma idealmente lui è ancora è ancora nell'ottica comunale per lui il punto di riferimento ideologico è ancora la città Firenze la giustizia lui da chi se l'aspetta in questa canzone se l'aspetta dai bianchi e eltri e dalle nere penne cioè dai bianchi e dai neri dalle parti per lui la politica è ancora Firenze e la lotta delle parti dalle quali si aspetta di avere giustizia di avere giustizia siamo nel 1302 ci spostiamo un po' più avanti ci spostiamo un po' più avanti e arriviamo e arriviamo al al 1304 al 1304 cioè al terzo trattato del convivio il terzo trattato del convivio scritto nel 1304 vedete che sono tassaggie se poi volete sapere perché ve lo spiego dopo ma comunque il terzo trattato del convivio è stato scritto nel 1304 e allora qui che cosa leggiamo qui nel libro terzo quinto capitolo si parla di geografia c'è solo una rapidissima allusione ai garamanti il popolo che abita il deserto della Libia i garamanti e lui Dante a proposito dei garamanti scrive all'i quali garamanti venne Catone col popolo di Roma la signoria di Cesare fuggendo interessante perché per la prima volta appaiono appaiono Catone e Cesare ed appaiono confrontati cioè Catone con il popolo di Roma fuggiva la signoria di Cesare allora noi poi leggiamo il convivio e diciamo il popolo il popolo di Roma che cosa è una mitonimia no non è una mitonimia è un'allegoria perché il popolo di Roma significa analogicamente il popolo di Firenze cioè Dante ha proiettato come fa spessissimo una realtà clamorosamente attuale come è quella sua in una storia vecchia antica che non c'entra niente con Firenze il popolo di Roma è allegoricamente il popolo di Firenze il popolo comunale la cittadinanza comunale viene definita come popolo e quindi i legionari romani sono una scusa lui sta parlando del popolo sta proiettando nei legionari romani che fuggono da Cesare la cittadinanza del comune che si rifiuta di obbedire ad un signore e che rivendica le sue libertà cittadine e comunali avete capito che voglio dire siamo nel 1304 Dante ha appena fatto parte per se stesso ha appena fatto parte per se stesso quindi diciamo che si è slegato sul piano dell'azione politica e anche sul piano biografico dalla dipendenza dei bianchi e dei neri però mentalmente lui pensa ancora come un fiorentino come un uomo di città come un uomo del comune e quindi Catone e Cesare si oppongono come il difensore delle libertà comunali contro il signore che le vuole compulcare mi seguite no? è sotterranea questa connessione lui non la sta argomentando però sta ragionando in modo automatico come ha ragionato come ha ragionato finora ecco e allora ma quando cambia quando cambia l'idea l'idea di Dante di Dante sull'impero cambia nel primo libro del deludare Eloquenzia che è stato scritto dopo il terzo libro del 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 convivio qui diciamo non entro nel dibattito vi segnalo solo un intervento di Enrico Fensi che ha mostrato proprio questo cioè come Dante acquisisce una idea positiva sull'impero nei capitoli del divulgare Eloquenzia nei quali scopre che scopre che dall'imperatore dipende che esista innanzitutto una letteratura degna di questo nome e poi una lingua degna di questo nome Dante arriva all'idea positiva dell'impero quando capisce che è stato in Sicilia dove in Italia ci sono state persone che hanno dato vita ad una lingua e ad una letteratura ecco e in questo è fondamentale questo fatto cioè l'impero diventa un fatto positivo quando può essere associato al volgare illustre e alla lingua e alla letteratura del volgare illustre questa connessione viene stabilita nel primo libro del divulgare Eloquenzia scritto dopo il terzo trattato del convivio e prima del quarto trattato del convivio il quale che fa sviluppa poi il tema dell'impero così come era stato impostato per la prima volta nel primo libro del divulgare infatti poi nel quarto trattato del convivio c'è questa grande diciamo teorizzazione sull'impero che poi sfocerà nella monarchia di cui diciamo gli assi teorici di questa difesa dell'impero sono l'idea che l'impero è necessario la reduxio ad unum di tutte le organizzazioni politiche locali tutte le organizzazioni politiche locali sono tutte malvagie perché diventino positive c'è bisogno di una istanza che le inglobi tutte che è l'impero in assenza dell'impero ogni organizzazione politica locale è malvagia è malvagia come questa però è una scoperta che aveva già fatto nel De Vulgari vi leggo questo in questo capitolo in cui viene il primo del De Vulgari in cui si parla dell'impero come dico Federico II e Manfredi che hanno accolto tutte le persone di cultura ma poi conclude cosa suona ora la tromba dell'ultimo Federico Aragonese cosa la campana di guerra del secondo Carlo cosa i corni dei potenti marchesi Giovanni e Azzo cosa i flauti degli altri magnati nient'altro che assassini venite a noi bugiardi venite a noi servi dell'avidità venite a noi ecco questa è l'Italia di Dante in assenza dell'impero in Italia così come la vede Dante quando scopre quando scopre la necessità dell'impero queste due idee queste due idee la scoperta della necessità dell'impero e la scoperta che l'Italia è un bordello la conassie sono due concetti concomitanti di questo frammento però io vi segnalo l'ultima l'ultima frase perché i vizi di questi politici italiani no c'è una graduatoria il più grave qual è? L'avidità è l'avidità questo è il vizio vero questo è il vizio vero della 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 umanità ed è così così grave questo vizio che l'avidità o cupiditas in latino diventa l'antonimo della giustizia cupiditas e giustizia sono due termini contraddittori primo libro della monarchia ciò che si oppone soprattutto alla giustizia è l'avidità come dice Aristotele nel quinto libro dell'etica se si elimina completamente l'avidità non c'è più nulla che si opponga alla giustizia tenete presente che qui siamo sulle strutture fondamentali della commedia l'avete capito la lupa e il velcro sono l'avidità e la giustizia rappresentate dall'impero così nasce mi è piaciuta molto la conclusione dell'intervento di lei ma così nasce la commedia su questi pilastri su questi pilastri l'avidità è il male e l'impero è la giustizia l'impero è l'incarnazione è il bene ora nel convivio nel quarto del convivio c'è anche l'esaltazione di Catone Catone viene celebrato in un modo straordinario addirittura Catone è l'essere umano più degno di essere comparato con Dio idea che forse gli è stata suggerita anche questa da Lucano perché a un certo punto Lucano dice chi aveva ragione tra Cesare e Pompeo non è lecito saperlo ognuno di loro si avvale di un grande giudice la causa degli incitori piace agli dei quella dei vinti a Catone vedete sono gli dei da una parte e Catone dall'altra in Lucano in Lucano va bene ecco allora quindi dunque quindi voglio dire con questo poi si giustifica il fatto che l'idea di Cesare da una parte e di Catone dall'altra vengono separate mentre al principio nel terzo del convivio sono confrontati questi due personaggi a partire da un certo momento si separano Cesare diventa il rappresentante dell'impero Catone diventa il rappresentante della libertà morale della libertà del soggetto così come dicevano i classici romani sullo stoicismo di Catone allora noi potremmo pensare che il diverso significato di Cesare dipenda dai diversi sistemi ideologici dell'inferno e del purgatorio l'inferno ha un'ideologia fondamentalmente politica e quindi di Cesare vale il suo significato politico Cesare è il baiulo dell'Aquila mentre invece il purgatorio che ha una dimensione soprattutto etica soprattutto etica allora di Cesare allora Catone è un personaggio positivo e di Cesare vale il fatto che era un sodomita che era chiamato regina dai suoi legionari cioè l'idea di Cesare viene calibrate in modo diverso a partire dai sistemi ideologici che soggiacciono alle due cantiche ma restiamo però comunque diciamo con il dubbio ma com'è possibile quello che Dante abbia usato questa stessa immagine di Cesare per per legare per legare l'inferno al purgatorio allora adesso mi sposto alla fine del purgatorio e mi chiedo come si passa dal purgatorio al paradiso e che cosa leggo alla fine del purgatorio leggo le episodi di Matelda e che succede nelle episodi di Matelda che Dante stranamente dopo essere stato immerso nell'ete ha dimenticato quello che Matelda che Matelda gli aveva spiegato prima e quindi rifà a Beatrice la stessa domanda da dove vengono questi due figli e Beatrice allora si si arrabbia con Matelda e lei dice ma come non gliel'hai spiegato a questo scemo e lei dice io sì gliel'ho spiegato ma lo ha dimenticato allora Beatrice dice a Matelda vabbè immergilo adesso nelle 1E il quale ridà la memoria del ben fatto del bene del bene fatto e quindi allora Matelda esegue l'ordine Dante viene immerso nelle 1E e quindi e quindi recupera la memoria del ben fatto e finalmente e finalmente scusate devo trovare adesso il passaggio devo trovare il passaggio può andare verso il cielo ora non trovo la citazione ma il verso finale è uscito dall'acqua puro e rifatto per salire al cielo questo significa che la ricostruzione della memoria che noi vediamo alla fine del purgatorio è un elemento necessario per l'inizio del paradiso Dante non può volare in cielo se non viene ricostruita la sua memoria questo ci sta dicendo la fine del purgatorio adesso vi leggo i primi versi del paradiso la gloria di colui che tutto move per l'universo penetra e risplende in una parte più o meno altrove nel ciel che più della sua luce prende fuio di cose che ridire ne sa ne può chi di lassù discende perché appressandosi al suo visire nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può dire che dietro la memoria non può dire veramente quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro sarà una terra del mio campo e allora capiamo perché è necessaria la memoria per andare in paradiso perché solo ciò che viene ricordato potrà essere scritto ed è questo che importa ciò che viene ricordato non ciò che egli ha visto come vorrebbe farci credere l'autore dell'epistola cangrande il quale insiste su quello che Dante avrebbe visto indipendentemente da quello che ricordò quello che conta è ciò che Dante ricorda con la memoria che è una funzione psicofisica del corpo e non dell'intelletto ciò che resta nella memoria si può scrivere si può dire ecco allora questo però che cosa vuol dire vuol dire che Dante sia alla fine dell'inferno che alla fine del purgatorio ha scelto delle immagini o dei temi di transizione dei temi di transizione fra una cantica e l'altra e probabilmente l'idea di questa immagine di transizione gli è stata suggerita dalla sua esperienza lirica e cioè dal fatto che in un certo tipo di lirica venivano usate le cosiddette strofe capfinidas cioè una strofa finisce con un verso e poi nel primo verso la strofa successiva riprende un'immagine una rima della strofa precedente Dante aveva sperimentato questo tipo di incatenamento delle strofe nelle petrose fondamentalmente nelle due sestine nelle due sestine cioè questo stesso collegamento e quindi che cosa che ha fatto Dante ha proiettato sul piano romanzisco una struttura di ragionamento di connessione sintagmatica che veniva dalla sua esperienza lirica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per questa io penso che abbiamo un po' di tempo per la discussione ok quindi possiamo passare la parola Massimo attende attende un instante per passare le micro grazie grazie volevo fare una domanda a Raffaele ma anche in realtà poi a Giuseppe se potrà magari poi rispondere in relazione al canto nono del purgatorio perché alla fine del canto nono Cesare viene di nuovo chiamato in causa di fatto ed è di nuovo un momento di passaggio perché quando la rupe tarpea ruggia lo fa perché è stato tolto il buon metello e se ricordo bene è Cesare che gliel'ha tolto o mi sbaglio cioè è un riferimento credo a Lucano e a un episodio giusto del bellum civile della Farsaglia ora siamo di nuovo in un canto di passaggio è casuale questo secondo te onestamente non avevo mai pensato alla figura di Cesare in relazione alle soglie ai passaggi in effetti visto che il tema appunto del programma è questo soglie e passaggi è vero che il rapporto comunque brutto catone non può non far pensare al lettore alla figura di Cesare a una diversa interpretazione in che senso possiamo interpretare allora questa allusione se il mio ricordo è corretto nel finale del canto nono e per Giuseppe poi appunto il discorso la domanda era molto semplice siccome lui ci aveva anche appunto promesso di parlare della presenza del mondo classico nel canto nono se poteva magari molto brevemente ricordare così quello che voleva dire sul canto nono che è un canto in cui mondo classico e diciamo mondo cristiano penitenziale entrano in in complementarità insomma ecco queste due domande e grazie per le splendide relazioni di oggi che ho sentito a tutti l'attore da vero so io non per la verità non ci ho riflettuto a questo a questo al senso di questo passaggio quindi non non potrei darti una risposta se non prima analizzando un po' il test forse 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 Giuseppe ha qualche idea come il passo ce l'avete è l'ultima citazione la 12 se prendete l'end out così capite qual è il passo che di cui ci viene chiesto ora però è l'ultimo passo del canto nono quindi in due minuti vi posso presentare rapidamente questa sequenza passi 7 8 9 10 11 12 che mostrano come questo canto fondamentale di soglia di passaggio tra l'antipurgatorio e si conclude poi con l'attraversamento della porta e l'ingresso nel purgatorio vero e proprio è davvero un passaggio fondamentale purtroppo non c'è stato tempo per esaminarlo però è molto interessante che questo anche questo canto così importante che viene ricordato questo prodotto per la cerimonia anche questa tutta cristiana penitenziale dell'angelo i gradini l'elemento della penitenzialità l'umiltà eccetera l'angelo e però è tutto infarcito di temi classici che dialogano con tutti gli autori qua sono tutti chiamati in causa abbiamo dalla concubina di Titone Antico con questo che per descrivere l'alba che però è nell'Italia richiama questo erotismo un po' ambiguo un po' grottesco del Titone sempre più vecchio e della perché c'è questo erotismo forse un pochino equivoco e grottesco perché è l'aurora che sta sorgendo sull'Italia mentre poi l'aurora invece che sorge sul purgatorio sul giorno che aprirà la penitenza di Dante ce l'avete nel passo numero 8 è evocata presso la rondinella che da una parte evoca ancora il mito di Procne Filomela quindi un altro mito però d'altra parte la rondinella cristiana cioè la rondinella simbolo della penitenza nel bestiario cristiano medievale e poi c'è appunto l'aquila sognata che ha degli elementi ovviamente politici anche però eppure questo è un simbolo un simbolo di penitenza nel bestiario medievale perché si interpretava così il versetto del salmo renovabitur ut aquile juventus tua quindi questo rinnovamento della giovinezza e l'aquila si ottiene grazie alla penitenza ora non posso entrare e però sogna di essere rapito come Ganimede quindi il mito che citava sia Virgilio sia soprattutto Ovidio è un mito di Deificazio che allude appunto l'aquila e la penitenza a cui Dante dovrà sottoporsi per poi arrivare come Ganimede assunto nell'Olimpo anche lui a una situazione di Trasumanar che sarà poi quella che si compirà sempre in connessione con l'aquila nel primo canto del paradiso con il Trasumanar eccetera come si sveglia? un altro mito classico a volta stavolta è lo stazio che viene che non è più lo stazio infernale della Tebaide che abbiamo visto prima ma è lo stazio dell'Achilleide che già era un po' stato utilizzato qua e là per la storia del peccato di Ulisse dei Damia eccetera e qua invece è quando Achille portato dalla madre dalla Tessaglia all'isola di Sciro si sveglia poveretto stava dormendo e si è addormentato in Tessaglia si risveglia a Sciro e ovviamente non sa dov'è è così Dante che si è addormentato nella valletta si trova qua su questa altura e si spaventa moltissimo e qua è molto interessante Michelangelo Piccone che abbiamo evocato tante volte su questi canti ha scritto cose straordinarie su questo in particolare ci spiega come questo mito di salvazione mancata perché Teti ci ha provato a salvare Achille ma è arrivato Ulisse e l'ha portato Abile a ruolato in guerra e lì è morto per cui alla fine è fallito tutto il piano di Teti invece quello di Lucia che esegue il piano divino è quello di una salvazione quindi ancora questa figuralità dei personaggi classici che però viene corretta integrata perfezionata e poi si arriva al mito di Orfeo che è stato citato ieri scusate non ricordo più bene da chi ma è molto importante forse da Nicolò o forse da te Lelo da tutti e due ah no qua invece sì beh certo le georgiche ma se ricordo bene anche Nicolò perché è all'inizio dove Nicolò è all'inizio del decimo canto e quindi apriva la cornice dei superbi e qua è incorniciato perché lo cita alla fine del nono canto e poi lo ribadisce qui hanno scritto pagine importanti ultimamente Stefano Carrai è intervenuto tante volte anche una mia allieva molto brava che si chiama Sara Granzarolo ha scritto una cosa molto interessante che vi invito a leggere e poi però ecco alla fine arriva anche scusate per cui certo lo dobbiamo valutare all'interno del percorso della riflessione forse anche politica sulla figura di Cesare come ci indicava però secondo me è un po' alla fine di questo confronto col mondo classico su cui si gioca il canto nono e quindi forse anche qui era una vecchia idea di piccone non so dirvi molto di più c'è un po' la correzione alla fine Metello custodiva che cosa il tesoro un tesoro materiale il tesoro pubblico di Roma nel Tempio di Saturno e adesso invece questa porta si apre a Dante per la conquista di un altro tesoro un tesoro spirituale che è quello della libertà che poi porta alla salvezza infatti il tema del tesoro sarà poi evocato nel Paradiso qui vi si ridego del tesoro che si acquistò piangendo nell'uesilio di Babilon dove si lasciò l'oro quindi il tema del tesoro troverà poi compimento come il tesoro e il godimento del Paradiso e scusate sono fatto lungo ma è che ci sono sono delle question della parte dei studiati preparando il concours di curiosità delle expliche sì Giuseppe con quello di Giuliano che è stato molto interessante per un canto interessantissimo il primo sostanzialmente del vostro programma quindi ha un'importanza notevole lui ha messo in luce degli elementi fondamentali io vorrei integrare Giuliano con alcuni elementi che tu hai accennato ma che secondo me sono molto importanti per gli studenti e non li hai sviluppati pienamente perché si è concentrato più sui traditori lì inizia un protagonismo molto forte di Dante e l'abbiamo visto ieri Dante poeta in scena con l'invocazione ma poi è in scena l'abbiamo visto oggi Dante personaggio che interagisce violentemente con Bocca e dall'altra parte è in scena uno dei passaggi più interessanti di quel lento percorso di consapevolezza del viaggiatore che quando tornerà a casa scriverà il poema e noi sappiamo che le investiture poetico profeti che vengono dati nel pareggio terrestre da Beatrice quel che vedi fa che tu scrive eccetera eccetera ma Dante ovviamente un poeta che fa un viaggio così straordinario ce l'ha già pensato da solo quando torna a casa scrivo una roba che spacca perché insomma viaggio così chi l'ha fatto non è che non gli era venuto in mente quindi abbiamo delle tracce ma per la prima volta dopo il calcione a a Bocca è lì che veramente capisce tutte le potenzialità di questa opportunità che gli viene data perché appunto chiede il nome perché per mettere tra l'altro note questa parola note aveva avuto pochissime occorrenze quella più importante nel giuramento per le note di questa comedia le note sono proprio quelle del poema che noi stiamo leggendo e ovviamente bocca non glielo vuol dire ma poi quando viene scoperto gli dà una specie di parodica investitura profetica cioè va e dici quello che vuoi che è un po' una parodia ma non celare anche questo linguaggio dell'investitura profetica e quindi è proprio un canto fondamentale anche per di più se voi pensate che a Firenze cosa pensavano di Dante dove andrà Dante dopo la morte in quello che il suo o nella boggia dei barattieri e lì quindi si è impegnato a ragione oppure in quella dei traditori perché comunque dopo l'esilio eccetera si era messo in combutta con i Ghibellini e quindi era passato per i fiorentini intrinseci dalla parte dei Ghibellini cioè dei traditori di Firenze quindi ecco è un canto che ora quando lo rileggete lo ristudiate mettete insieme l'aspetto diciamo della cautelazione del tradimento attraverso i personaggi che ci ha distratto l'insieme Giuliano con la costruzione dell'identità dell'io che è viaggiatore nell'aldilà ma che poi sarà investito e quindi lui dice io porterò di te vere novelle cioè appunto la missione che lui si sta già autoattribuendo di svelare al mondo come stanno veramente le cose non solo nell'aldilà ma nell'aldilà che rivelano quello che è accaduto nell'aldiquà quindi insomma integra un po' questo Filippo 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 che era ecco io vorrei fare una domanda a Giuliano ma in realtà forse a tutti su un punto a Giuliano perché sono i canti di cui ti ha parlato è un verso che è stato citato e perché riguarda come lo sento proprio il senso del viaggio e una risposta soddisfacente forse la domanda è assurda ma una risposta che mi soddisfi nei commenti dei pagina e già non ho mai trovato è il famoso perché costante non ti specchi e questo verbo che è sempre parafattato con i guardi intensamente eccetera eccetera io sappia nella tutora migliorare in modo generale specchiarsi lo specchio lo specchio eccetera eccetera ha questo valore autodifensivo di auto anche nello stesso lante della ballata eccetera eccetera questo specchio lancio molto così su uno di quei punti che spesso scatela di noi che voglia è così le eseggetiche è così anche stregate anche bislacchi anche ecco se qualcuno potesse come dire darmi un po' di pace a questo a questo verbo che sembra che si mai commentate mi guardate poi gli antichi commenti o non mi ricordo ecco perché ho tanto in ogni specchio e a metà un po' appunto è proprio l'indice c'è il primo incontro ok io farei un passo indietro come storico della politica e penso che la ragione fondamentale sia che gli servissero dei rimini ecchi e cricchi come ci diceva ieri Paolo Borsa però 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 è una battuta diciamo che questa 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 idea forse raggiunge un po' l'integrazione che ha fatto Giuseppe Leda cioè Dante aveva già nel viaggio ogni tanto diciamo fatto ricorso all'idea di riportare notizie sulla terra ma qui le notizie cominciano c'era stato un po' il precedente guido a Montefeltro però diciamo cominciano a essere rivoluzionari rispetto a quello che si sa sulla terra e e e quindi diciamo che una una delle ragioni che che si comincia a capire l'interesse di Dante non solo per se stesso ma per per il resto dell'umanità in qualche misura a cosa serve questo viaggio non solo per per Dante ma per tutti gli altri ed è tematizzato come diceva Giuseppe cioè gli altri possono cominciare a approfittarmi di questa di questa cosa il al punto che anche lì proprio nello stesso momento in cui Bocca degli Abbati come dire viene torturato e scoperto Virgilio e ci pensavo oggi mentre mentre ascoltavo le riflessioni su Virgilio Virgilio fa veramente un passo indietro e forse è la prima volta che Dante prende un po' il sopravvento su Virgilio perché dice scostati un momento in fondo con gli usurai era successa una cosa di Gemma l'aveva deciso Virgilio ha detto ti lascio qui perché devo andare a cercare Gerione insomma a metterlo a posto prima del viaggio ma invece qui è proprio lui che dice aspetta aspetta Dante dice devo fare una cosa mia che non mi serve solo a me stesso al mio percorso di comprensione che è stato deciso altrove di cui ogni volta mi stupisco ma a tutto punto mi sono giusto per adesso a sfruttare e in questo in questo c'è c'è un elemento nuovo specchi se vogliamo seguire la suggestione che ci dava Lele che ci dava scusate Giuseppe io avevo concluso con un epilogo che che appunto andava in questa direzione che poi non ho letto perché ho finito il tempo ma che diceva ripercorrendo l'intera formazione delle due parti in lotta come storia di una catastrofe a cui gli esponenti di entrambi avevano partecipato in uguale misura e mi sto riferendo a Guelfi e Ghibellini non a persone che pensavano dell'impero della chiesa lasciamo perdere tutto questo l'impero c'entra poco perché l'impero non c'era quando 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 si sono formate queste parti ecco avevano partecipato le parti in uguale misura macchiandosi dello stesso gravissimo peccato Dante accusato di tradimento dai Guelfi e dai Ghibellini e forse anche dai propri familiari perché in fondo se diamo retta al caso di insomma della vendetta mancata di aiutatemi che sto Geri del Bello della vendetta mancata di Geri del Bello insomma in qualche modo ci entrano anche i familiari volle diffamarli tutti provando nella commedia a togliere le macchie alla sua fama in un modo nuovo rispetto a quello che aveva praticato praticato nel convivio non più rianalizzando le proprie poesie ma facendone di nuove cioè quelle della commedia alla fine di dimostrare la propria terzietà rispetto ai parti esistenti così da fondare la propria autorevolezza di infamatore sovracomunale ecco si trattava dicevo di un progetto audacissimo che non era mai stato intentato se riuscì a realizzarsi fu solo perché nonostante i temori manifestati all'inizio del trentaduesimo canto dell'inferno Dante le parole per rendere il suo racconto credibile le aveva trovate ecco così era in quella direzione vorrei vorrei rispondere brevissimamente anche io nella stessa linea cioè chi parla chi parla è un traditore e gli dice a Dante perché ti specchi in noi cioè lo sta accusando di essere un traditore appunto a partire da queste accuse vere cioè Dante in questo modo scredita le accuse di tradimento che gli facevano sono i traditori che mi accusano di essere un traditore no che gli dice il dannato perché ti specchi cioè tu che sei come noi perché ci guardi ma è un traditore che parla è un dannato e quindi noi dobbiamo capovolgere l'affermazione è un traditore il quale mi accusa di essere un traditore